Buonasera da Radio Radio, siamo all'interno del Parco Hotel, una bellissima struttura situata in via Montilepini venticinque, l'albergo offre tanti servizi a vostra disposizione, ma visitate il sito internet www.parcohotel.it Ritorniamo alle nostre storie di interviste perché questa sera parliamo di bellezza ma soprattutto di capelli quindi fondamentali per la personalità ma soprattutto quella delle donne lo facciamo con la nostra ospite speciale Anna Bottoni, buonasera Anna, buonasera e il nostro Cristian Vitale, Vitali, buonasera Cristian, buonasera a tutti grazie. Allora siete voi titolari appunto del salone di New Look di Anna Bottoni quindi prende il nome appunto da da te Anna. Sì. Quindi chiedo subito a te come nasce l'idea di aprire il vostro salone? Beh diciamo che io ho sempre lavorato in un negozio affinché quando la titolare mi dice guarda purtroppo devo chiudere questa attività e essendo comunque ancora giovane ho detto beh invece di tornare ad essere dipendente apriamo realizziamo il sogno che ho sempre avuto e da qui ho rilevato un'attività di Pontinia che è stata la prima ad essere fondata. Io me lo ricordo bene, me lo ricordo bene perché lei aveva proprio questa voglia e io l'ho supportata in tutte le maniere perché ho visto che comunque la passione che la contraddistingue non poteva che sfociare nell'aprire un negozio che penso sia il massimo per una ragazza che fa questo genere di lavoro. Quindi la cosa più bella comunque è trasformare la propria passione in lavoro. Sì. Certo. Io non mi dimentico il primo giorno quando ha aperto che la prima cliente e l'attenzione che rivolgeva era anche tesa ma immagino perché comunque l'obiettivo era quello di fare un lavoro fatto bene per iniziare come dire chi ben comincia è a metà dell'opera. Quindi trarre la propria soddisfazione, la soddisfazione personale dalla soddisfazione degli altri quindi la cosa più bella. Quindi vabbè la passione quindi sicuramente l'ingrediente che ti ha il motore. Infatti anche il nome del negozio è quando visto da piccola dici se un giorno riuscirò ad aprire un negozio sarà questo il nome e così andrà a finire. Ecco e poi comunque sei stata anche molto fortunata comunque ad avere un compagno che è riuscito a insomma accogliere. Certo, certo, le devo molto. Ti ha supportato e ti ha spronato e insomma ha creduto in te. Cosa molto fondamentale. Giusto. Perfetto. Quindi poi come dicevamo l'originalità del salone, cioè cosa è che vi distingue al di là diciamo della della passione, dell'allegria? Guardi noi tutti i giovedì riserviamo una promozione per tutte le clienti e questo abbiamo deciso di farlo per sempre. Praticamente abbiamo la promozione della messa in piega solo 8,50 euro. È una cosa che comunque piace ed è molto soddisfacente. Un prezzo concorrenziale che io stesso che sono uno che insomma che non è del settore propriamente detto però cerchi di informarti, di vedere in zona insomma nessuno offre un prezzo del genere. Quindi è come se potesse considerarsi una cosa non dico solidale ma quasi perché permettere insomma a tutti di accedere alla bellezza. La bellezza è un patrimonio di tutti. Diciamo di cercare di far venire le clienti nel salone piuttosto che rivolgersi sempre al fai da te a casa. Ecco e poi magari poter venire più di una volta. Certo certo. Quindi in questo modo magari uno si può anche permettere di poter venire due volte a settimana anzi di una. Quello che succede. Ecco quindi insomma ci si sente anche più importanti in questo momento. Certo. Ok invece al di là di questo ci sono altri servizi che mettete a disposizione? Sì diciamo che noi ormai da circa tre anni abbondanti facciamo una colorazione 10M che sarebbe una colorazione con 10 minuti di posa. Molto apprezzata perché comunque oggi tutti vanno di fretta e invece che stare i suoi 30-40 minuti 10 minuti un quarto d'ora diciamo che è una buona cosa. Poi comunque a basso contenuto di ammoniaca e lascia i capelli molto sedosi molto lucenti e ci stiamo lavorando molto. Questa tintura nasce da un'azienda Thai che noi siamo esclusivisti sulla provincia di Latina con il Thai shopping che ha dei prezzi molto concorrenziali. Quindi insomma qualità disponibilità, allegria, passione, servizio comunque personalizzato quindi una consulenza personalizzata volta comunque a valorizzare la persona. Convenienza a livello di prezzo, prodotti buoni. Qual era quell'altra cosa? Io aggiungerei un'altra cosa, intraprendenza perché comunque Anna soprattutto e io sono felice di supportarla negli ultimi anni ha voluto creare degli eventi, degli eventi che possono completare diciamo il panorama delle attività solite di una parrucchiera e cioè le sfilate. Sì infatti noi nel periodo estivo facciamo sempre diverse sfilate. Quest'anno è stato l'anno più intenso perché in un mese ne abbiamo fatte quattro tra cui un concorso di bellezza dove viene eletta una Miss e poi le vincitrici sono state indirizzate a un altro concorso di bellezza a livello nazionale che si chiama Miss Spettacolo di Stefano Madonna. Infatti pongo l'attenzione su queste particolari attività perché le sfilate sono tese a creare sfilate di moda, di acconciature ovviamente visto che la sua attività è quella e anche di body painting. Bellissimo. Una particolare attività, arte pittorica brava. Del corpo. Che Anna ha voluto promuovere soprattutto negli ultimi tempi perché è tornata di moda. E si sposa anche perfettamente per quanto riguarda diciamo la bellezza perché tende a valorizzare quella che è la bellezza naturale della persona. Quindi è anche molto comunicativa. Quindi si sposa tantissimo con con l'arte diciamo della. Quest'anno l'abbiamo realizzata anche su dei bambini piccoli e lì è la parte ancora più bella. Perfetto. La cosa soddisfacente poi è vedere a parte le adulte, le modelle adulte ma i bambini, le bambine che sorridono, stilano sul red carpe che prepari per l'occasione. l'abbiamo fatto sulla piazza di Pontinia davanti al comune e insomma dimostrare anche qual è l'arte che Anna può mettere a disposizione della gente che va al di là del semplice servizio di parrucchiera normale. Certo quindi come dicevo prima ci sono tre ingredienti insomma che vi vanno a che vanno a sintetizzare quindi il vostro servizio quindi la velocità come dicevamo prima quindi la velocità quindi se andate di fretta, velocità, qualità e soprattutto convenienza. Quindi sono tre elementi voglio dire che vanno se cercate tutto questo tutto insieme non resta che andare appunto al salone di Anna e di Christian perché comunque avrete non solo un servizio ottimo quindi una qualità passione per il quale viene conduto insomma svolto il lavoro una qualità dei prodotti ma anche tempi comunque ridotti e prezzi convenienti quindi insomma cosa volete più dalla vita. Perfetto quindi Anna, Christian se non volete aggiungere altro diciamo riguardo la vostra attività, ricordo i contatti. Io posso solo dire che il concorso di bellezza che appunto si chiama Miss New Look così come le varie sfilate sono un naturale completamento dove la cliente trova un'amicizia perché vai al di là del semplice rapporto cliente con il cliente e in questa maniera offre anche uno spirito di serena aggregazione tra genitori, figli che penso sia una cosa bellissima al mondo d'oggi e rendere più unite le persone non solo da un punto di vista lavorativo. Perfetto, quindi questo concorso diciamo per quanto riguarda le sfilate è aperto a tutti come funziona giusto per coloro che sono interessati potrebbero essere interessati alle clienti? Certo naturalmente poi vengono divisi per fasce di età e di ogni fascia di età poi verrà eletta una vincitrice e tutte le vincitrici una di ogni fascia poi diventerà la vera eletta la miss ok e quest'anno la nostra miss è stata Silvia Verracci una giovane diciamo mamma di 34 anni che ha due bambini infatti la particolarità del concorso è che non è rivolto esclusivamente alle classiche modelle che hanno un determinato fisico bensì anche a ragazze che magari hanno qualche chilo in più ma hanno da mettere in mostra il proprio portamento la propria classe e la propria voglia che va al di là insomma dell'estetica è un'indole è un indole nata che viene poi fuori anche grazie alla vostra arte cioè appunto quella di evidenziare le qualità bravissima ok va benissimo allora io vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi comunque per averci fatto vedere anche questi nuovi aspetti del del mondo appunto del del capello perché comunque avete avete raccolto nel vostro negozio tanti elementi di originalità e di servizio quindi insomma sono sono felice per per voi e invito tutti davvero ad andare a trovare anna e cristian quindi ripeto il nome del salone new look di anna bottoni ricordo anche un attimo i contatti abbiamo il tre quattro nove sette otto tre uno nove nove cinque e un numero fisso lo zero sette sette tre otto sei tre zero tre anche l'indirizzo è via filippo corridoni trentacinque di pontinia ma soprattutto la pagina facebook new look parrucchiera quindi invito a lasciare un like alla pagina subito per essere costantemente aggiornati quindi di tutti i contatti quindi perché la pagina è costantemente aggiornata anche degli eventi quindi per quanto riguarda i servizi offerte che mettono a disposizione e anche per quanto riguarda il servizio di bellezza le sfilate quindi tutto lasciate mi raccomando un like alla pagina new look parrucchiera abbiamo anche l'instagram e youtube che utilizzate tantissimo come canale quindi new look parrucchiera twitter anche new look pontinia e l'indirizzo mail anna trattino bottoni chiocciola libero punto it e il sito internet www punto new look parrucchiera punto it quindi non ho dimenticato nulla non ci facciamo mancare niente abbiamo tutti i collegamenti possibili e immaginabili non resta che andare e provare assolutamente sì ok allora vi ringrazio vi auguro buona serata grazie buona serata a tutti